Ho deciso di fare questo passaggio da Azione Italia Viva perché credo che questa possa essere la casa che meglio incarna il progetto riformista e liberale che abbiamo iniziato a portare avanti col terzo polo. Oggi è venuta meno quella forza propulsiva che credo possiamo trovare ancora in Italia Viva mentre in Azione purtroppo questi continui cambiamenti e mutamenti da parte del nostro segretario non hanno consentito di incarnare meglio e di mettere a terra quel progetto che oggi credo qui possa trovare la sua casa. Carlo Alberto Coletto è una persona di qualità, abbiamo condiviso la campagna elettorale delle politiche e delle regionali e oggi con Italia Viva continuiamo il progetto del terzo polo. C'è molto da fare, bisogna dare una sveglia all'Europa e nelle prossime settimane noi faremo una campagna nel merito con i nostri candidati e soprattutto bisogna dare la sveglia anche all'Italia perché il governo Meloni non sta girando e soprattutto non bisogna scambiare le elezioni europee per un grande sondaggio sul governo. Abbiamo un documento di economia e finanza che è soltanto elettorale e poi aumenteranno le tasse, non sono state abbassate le accise sulla benzina e non c'è nessun progetto per il Paese. Sicuramente da parte del centro-destra e del centro-sinistra non ci sono progetti e programmi per l'Europa. Quindi noi siamo in campo, la nostra squadra si allarga e quindi insomma partiamo da Varese ma il nostro progetto è per l'Italia.